Si delinea intanto il contesto familiare dove la piccola ha vissuto i suoi primi giorni di vita, che non sembra essere di estremo degrado così come nelle prime ore si era pensato. I due neogenitori vivevano in un modesto appartamento popolare, erano entrambi disoccupati ma non in situazione di degrado, piuttosto in uno stato di isolamento e solitudine pare sia familiare che causato dalla paura della pandemia che li aveva fatti rintanare in casa per paura del contagio da covid, una solitudine ed un isolamento che ha portato alla morte del piccolo angelo. Essere indifferenti, ognuno può attivare una richiesta di aiuto per la propria vicina, per la persona che si conosce. Distanziamento sociale sì, in questo momento di covid, ma distanziamento sociale no. Fisico sì, ma sociale no. Che cosa voglio dire? Se ci accorgiamo che una persona vive un momento di difficoltà psicologica, emotiva, economica, basta un piccolo gesto per aiutarla. Una piccola telefonata, un citofonare e chiedere avete bisogno di qualcosa? Oppure non vogliamo avere a che fare con quella persona, con quella famiglia? Attiviamo un'altra risposta di aiuto. Chiamiamo la Caritas, la protezione civile, chiamiamo il parroco della parrocchia, del quartiere, oppure per le situazioni più complesse. Telefoniamo i servizi sociali, oppure segnaliamo...